Il sesto omicidio tra gli omosessuali negli ultimi due mesi, e tutti impuniti. Sei tu indisciplinato a 90, vero? Veramente io sono fruffo. Dai, facciamo un centone. Eh no, troppo caro. Certo che non immaginavo davvero di imbattermi subito in un omicidio. Stanne alla larga, Marco. Se riesco a trovare quello che mi ha rapinato, sai che scopo. Lascia perdere. Ehi, lo preferisci a metri o a chili? In genere gli uomini li guardano le parti basse. Ti ho già detto delle mie inibizioni. Sai cosa penso a volte? Che amare sia una condanna, una maledizione. Bisognerebbe amare poco, e neppure tutti i giorni. Te la ricordi, Linda? Quella del locale? È la ruffiana del professore. Il professore? Senti, perché non mi lasci stare, giornalista del cazzo? Questi ultimi due omicidi hanno un movente ben preciso. Non devi aver paura di me. Adria. Puzzi di alcol. Sono giri grossi, gente importante. Edoardo Giorni usava alcuni ragazzi di vita per tenere in pugno i pezzi da 90 col vizietto. Devi dirmi quello che sai. Sta diventando un gioco pericoloso. Versi di alcol. Grazie a tutti.